buonasera a tutti buonasera eccoci qui 2020 primo appuntamento incominciamo in questo mercoledì con il primo appuntamento insieme spero tutto bene voi avete passato bene le feste festeggiato dopo d'anno adesso ben tornato sul pezzo con con le nostre analisi ecco allora come avete visto dal titolo già quando vi siete iscritti al webinar andiamo a vedere un po l'analisi ciclica però dico già subito chi penserà di vedere la classica analisi andare sul mensile settimanale vari cicli del genere rimarrà un po deluso perché per via un po delle esperienze mi sono fatti in questi anni alla fine questa analisi ciclica porta solo dei gran mal di testa e grattacati non che porta solamente a a trovare una giustificazione per l'operatività o quantomeno spiegandomi meglio in qualsiasi punto ci troviamo del grafico che sta scendendo che sta salendo il prezzo qualsiasi cosa nella classica analisi ciclica con i vari sottocicli che ne so quadrimestrale mensile settimanale così sarà sempre comunque un motivo per cui il mercato possa andare al rialzo al ribasso lateralizzare fare un doppio minimo però il doppio minimo sarebbe un minimo ciclico mensile sarebbe un massimo settimanale un minimo settimanale però non si ferma il mercato perché è minimo solo settimanale ma non mensile insomma un sacco di problemi mentali che tolgono solamente sicurezza nell'operatività o quantomeno non vi è una a parer mio un vantaggio nel capire dove siamo ciclicamente anche perché l'analisi ciclica è così bella quando le cose sono già fatte che sì sì il mensile questo è stato un ciclo mensile che è durato 8 giorni eccetera di conseguenza ho salvato un pochino quello che a parer mio porta realmente un beneficio o quantomeno non è tanto un'analisi ciclica nel senso che si andremo a vedere l'analisi ciclica operativa ma è un'analisi ciclica dettata dal fatto che in determinati orari momenti sul mercato succedono determinate cose poi guarderemo bene principalmente sarà su anzi senza principalmente sarà solamente sugli indici indici e azionario si può utilizzare ecco però principalmente sugli indici sugli indici come sapete con chi ha parlato con me sa benissimo che io prediligo gli indici per varie motivazioni e anche una soprattutto questa è una cosa che mi dà mi dà mi dà molta comodità nel senso che andiamo a vedere un attimino i momenti in cui bisogna stare attenti al mercato bisogna bisogna aprire gli occhi e guardare il mercato cosa che nel forex come dico molti è più difficile perché chiaramente una cosa un movimento può avvenire in quel segmento della giornata sì per l'amore di dio quando parla federal reserve dragg una volta la gala lagarde bce o che ne so non fa in parole venerdì americani quello sì però diciamo che i movimenti possono avvenire anche di notte quando non siamo computer quindi se vuoi fare un trading magari un po più preciso cercare un ingresso un po più preciso è molto difficoltà c'è più difficile prendere queste cose ok andiamo iniziamo sotto disclaimer la negoziazione con strumenti finanziari cifre di azioni tf offerte da admiral market comporta un livello derivato di rischio che non è dato tutti gli investitori a causa della loro natura complessa prima di stipulare un'operazione effettuare una transazione assicurati di leggere termini e le condizioni del nostro servizio consulta uno specialista se necessario per assicurarsi di comprendere i rischi connessi al trading questo contenuto nessuno scopo informativo e didattico il contenuto i contenuti sono sviluppati da admiral market as e distribuiti da admiral market group as aziende di investimento per un pubblico globale pertanto tieni presente che le informazioni contenuti in questa sessione potrebbero non essere adatte a tutti per ottenere le informazioni corrispondenti su grafici condizioni altri dettagli visita visitare admiral market puntocom selezionare il paese di residenza e contattare l'entità appropriata questo contenuto è solo scopo informativo generale e non è destinato a fornire consigli trading o di investimenti o raccomandazioni personali qualsiasi informazione relativa alla performance passata di un investimento non garantisce necessariamente la performance futura admiral market non sarà responsabile per qualsiasi perdita subita direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato su qualsiasi informazione contenuta in questa presentazione le informazioni non sono rivolte a residenti negli stati uniti in belgio e non sono destinate alla distribuzione o utilizzo da parte di persone in qualsiasi paese o giurisdizione in cui tale discrezione distribuzione o utilizzo sarebbe contrarre le leggi o ai regolamenti locali il mio faccione come ogni volta possiamo anche saltarlo diciamo intanto per per chi è come dall'inizio diciamo che mi ha visto più più volte per i nuovi vabbè questo è il mio faccione con cui con cui avrete che fare questo retto diciamo scarsa partiamo direttamente solita paginetta di presentazione del broker ma sostanzialmente ci conoscete bene visto che ci avete scelto per per operare e spero che vi trovate bene partiamo che cosa un ciclo un ciclo movimento nello spazio nel tempo che origine da un minimo iniziale a 0 e 1 finale a 1 al suo interno abbiamo solamente due punti di massimo due punti di massimo b0 e b1 l'intervallo di tempo che separa i due minimi prende il nome di durata la cal la quale può essere di varia grandezza esistono teoricamente cicli giornalieri settimanali e messi di quadrimestrale come dicevo prima siamo al momento x possiamo teoricamente essere nel minimo giornaliero barra massimo settimanale metà ciclo quadrimestrale quindi cosa si va a fare non si capisce niente non si opera sostanzialmente o quantomeno le indicazioni che può darci l'analisi cicli che cosa può essere che dobbiamo stare attenti a fare una posizione long perché siamo in un minimo giornaliero perché siamo in un minimo giornaliero però possiamo farla perché siamo in un massimo settimanale però siamo in metà ciclo del quadrimestrale quindi morale dopo è bello prima inutile sostanzialmente la distanza che torniamo a noi la distanza che intercorre fra il minimo assoluto del ciclo e il massimo assoluto prende il nome di ampiezza questo qua è un po' la base ecco per cercare di capire un pochino ecco minimo massimi che sostanzialmente sono due in questo caso è rappresentato uno ma sono cose più più teoriche e tutto durata del ciclo ampiezza e la forza che sarebbe la differenza tra il minimo e il massimo sostanzialmente questo è il ciclo il ciclo base questo ciclo come detto si può dividere in vari sottocicli partiamo che non so azionare il classico ciclo azionario è il quadrimestrale che è composto da quattro mensili il mensile è composto da quattro settimanali settimanale all'interno del giornaliero chiaro che può avere anche sotto i cicli interni che può arrivare sui cicli minuscoli al minuto come detto è talmente una matrioska incasinata che non fornisce operativamente un aiuto né tantomeno riesce ad aumentare la tranquillità operativa ecco sostanzialmente andiamo solamente a complicarci la vita cercando di di incastrare le cose quando non si riesce ecco quello sostanzialmente ora andiamo invece sul concreto mettiamo subito in chiaro alcuni aspetti altra cosa non detta prima esiste una tolleranza ciclica nel senso che allora abbiamo la tolleranza ciclica cioè alla fine del ciclo il ciclo può essere spostato di che ne so mettiamo un ciclo mensile può essere spostato di due o tre giorni ok? sempre lavorando sul grosso del perché secondo me l'analisi ciclica tradizionale non ha senso di esistere ok abbiamo un minimo mensile che cade oggi oggi 15 gennaio ma abbiamo la tolleranza ciclica di conseguenza il minimo può essere oggi potrebbe essere stato ieri due giorni fa tra due giorni più o meno il 10% la tolleranza ciclica quindi fate voi 30 giorni 3 giorni 15 poco fa un minimo oggi fa un minimo domani DAX fa 200 punti al giorno di range il giornaliero capite che cioè che indicazioni ci dà? un mensile stessa cosa al settimanale sui prezzi più piccoli ok? va a scadere un'ora fa al settimanale sul grafico orario tolleranza ciclica ok può essere scaduto oggi mezzogiorno può scadere domani alle 10 di cosa stiamo parlando ok? altra cosa meglio concentrarsi sullo stesso ciclo ripetuto nel tempo se noi vogliamo fare un'analisi ciclica e vogliamo proprio lavorare su un grafico su un mensile su un settimanale cosa che io non farò e non vi farò vedere quantomeno utilizziamo sempre lo stesso ciclo ok? sempre per il motivo precedente se noi continuiamo a guardare ciclo annuale quadrimestrale mesi le settimanali cioè ci incasiniamo talmente tanto la vita che non si riesce a capire dove cavolo siamo se siamo su uno l'altro l'altro voglio concentrarmi su un ciclo settimanale cosa che io non farò vi ripeto va bene allora teniamo solo quello e cerchiamo quantomeno di incastrare le cose su di esso ecco inaffidabilità cicli lungo periodo utilizzo reale solo in tra day ecco questo è proprio la cosa reale cosa vuol dire inaffidabilità cicli di lungo periodo io conosco trader senza fare nomi che stanno ancora aspettando dal 2016 che il mitico standard pur 500 vada a fare una chiusura ciclica mesi scusate annuale stanno ancora aspettando dal 2016 intanto l'SMP è salito e basta sostanzialmente a parte il il crollo che c'è stato che effettivamente c'è stato un crollo all'inizio del 2018 ma ditemi che quel ciclo il crollo lì è stato fatto perché doveva andare a chiudere il ciclo quadrimestrale il ciclo annuale il ciclo decennale quel cavolo che è non prendiamoci in giro lì sono stati altri motivi problemi di problemi di moltissimi fondi che erano short di VIX perché erano mesi e mesi che continuano a scendere costantemente costantemente lì è partito un grande un gran caos e purtroppo sono saltati sono saltati i classici stop i panic selling e lì veramente è venuto giù tanto l'S&P pochissimi giorni però non ditemi che lì è successo perché l'attività di avveranza ciclica il ciclo aveva detto che doveva chiudersi possiamo perdere per favore cerchiamo di capire che chi fa un'analisi ciclica molte volte lo fa per andare a in primis cercare di vendere un servizio ok un servizio nel senso che io ti faccio il corso di analisi ciclica e ti faccio imparare a vedere il mercato ok e seconda cosa per giustificare quello che è successo sul mercato ma non un fondo di investimento qualsiasi cosa sia un hedge fund qualsiasi cosa ma secondo voi va a vendere posizioni sull'S&P sul DAX ma anche sull'euro dollaro qualsiasi cosa solo perché c'è il ciclo quadrimestrale che deve andare a chiudersi per favore detto questo detto tutto sostanzialmente poi cicli di lungo periodo come ho detto prima hanno talmente una tolleranza così grossa che cosa mi importa sapere se il minimo lo fa stasettimana o settimana prossima o che deve scendere perché il ciclo va a chiudersi ma se tanto può scendere oggi domani tra due giorni tre giorni tra una settimana cosa mi dà cioè qual è il motivo cosa cavolo andiamo 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 lavorare con questo operativo con questa con questa informazione nulla semplicemente nulla ci andiamo a complicare la vita dove però il ciclo intraday cavoli lì sì che funziona non funziona al 100% non funziona tutti i giorni ma funziona e funziona non perché sono tutti d'accordo che bisogna comprare bla 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 a quest'ora no funziona perché sotto ci sono dei movimenti che hanno senso un movimento di liquidità che non sono stupidaggini da chiusura ciclo spostamento ciclo eccetera no c'è tutta una parte di posizionamento degli operatori finanziari sui mercati azionari che si ripete costantemente ogni giorno ma semplicemente perché è l'unico modo che possono avere per lavorare di cosa stiamo parlando del ciclo intraday il ciclo intraday sugli indici e sugli azionari adesso andiamo a vedere un attimo questo è a parer mio l'unico ciclo che può essere chiamato così o potete anche chiamarlo in un'altra maniera potete anche chiamarlo comportamento degli indici comportamenti nazionari che esiste si ripete costantemente e non è fallibile ma qui veramente aumentiamo la nostra probabilità di avere successo nell'operazione dopo andiamo a vedere orario per orario cosa succede ma cominciamo dall'inizio il ciclo classico intraday parte alle 9.30 o meglio l'inizio del ciclo avviene dalle 9.30 alle 10.30 ok abbiamo un picco 12.30 14 e abbiamo la chiusura del ciclo e l'inizio del nuovo alle 15.30 16.30 cioè cosa vuol dire inizio del nuovo un attimo che prendo una qui dobbiamo vederlo così ok allora qui abbiamo qui abbiamo qui abbiamo l'inizio anzi senza a b eccetera qui abbiamo l'inizio un attimo scusate un secondo che non trovi è passato un po' di tempo dall'ultimo è passato un mesetto di qualsiasi no a parte gli scherzi qui abbiamo l'inizio del ciclo qui abbiamo la fine ma la ripartenza del nuovo e questa cosa funziona costantemente non dico tutti i giorni ma funziona in maniera costante cosa succede alle 9 e alle 15 e 30 cosa succede abbiamo l'apertura di mercati cash cioè azionari puri veri in Europa e negli Stati Uniti adesso dovrebbe essere tutto chiaro perché è abbastanza semplice come cosa qui abbiamo 9 e 30 11 e 30 nel senso che c'è la ripartenza qui intesa che questo punto è come se fosse questo nel senso da questa parte avremo un'altra ripartenza facciamola un po' più piccola giusto per capire aspetta la facciamo più piccola facciamola così mamma mia no mamma mia mamma mia vabbè qui avremo 16 mettiamo il 16 00 e qua 9 00 ok è tutto un continuativo giorno dopo giorno e questo vi posso assicurare che funziona e dopo lo guardiamo lo guardiamo mi raccomando solo indici e azionari indici azionari adesso guardiamo come utilizzarlo in maniera comoda provate già da domani comunque ve lo dico solo guardando questo guardatevi da domani il un grafico di DAX o di S&P 500 e vedete come c'è questa precisione o meglio nel caso in cui ci siano dei minimi queste due zone in questi due orari c'è molta possibilità che ripartano continuiamo facciamo una cosa con calma allora cicli intraday azionari indice azionari perché focalizzarsi sul ciclo intraday sugli azionari perché la stragrande maggioranza dei fondi di investimento azionari opera solo long ecco questo è il motivo principale perché noi abbiamo il mercato apre le 9 un bel meno 2 guardando DAX abbiamo che ne so Daimler che apre a meno 5 fondi di investimento del fondo pensione della cosa c'è della Baviera avendo azioni già Daimler in portafoglio sto sparando a caso vera meglio farlo con BMW che probabilmente con l'ora più vi richiedo BMW facciamo con BMW il fondo pensione della Baviera ha azioni BMW in portafoglio con un fluttuante che continua a vendere e comprare e rivendere per lavorare al prezzo per tradare anche loro per guadagnare sulle oscillazioni comunque hanno 8 azioni in portafoglio il mercato apre BMW meno 5 e secondo voi cosa fa un fondo di investimento che lavora sul lungo periodo entra e si compra le azioni di BMW se le compra perché sul mercato vede azioni che costano meno o meglio se le compra nel momento in cui arriva su dei livelli importanti che abbiamo visto l'altra volta come trovarli tutto questo compra e la reazione cos'è del mercato se arriva gente che compra arrivano fondi che comprano arrivano istituzioni che comprano il mercato pian piano va a risalire ed è questo esattamente il motivo per cui allenò all'apertura dei mercati cash quindi azionari avvengono questa reazione nel momento in cui i mercati aprono in maniera negativa non funziona sempre per l'amore di Dio sono giornate che aprono meno 2 cavoli terminano meno 4 è un incidente a fare sono giornate così però la stragrande maggioranza dei casi magari viene amplificata la notte apertura meno 1 va giù meno 2 tutto sommato quello che è successo non è che va è stato molto a livello psicologico la botta della notizia però poi cominciano a cominciano a fare dei ragionamenti che comunque queste azioni costano poco e di conseguenza è meglio comprarle cosa succede? il mercato va a rimbalzare che il mercato che poi per l'amore non è detto che vada a continuare questa movimentazione per giorni e giorni però intanto questi fondi si sono comprati le azioni le hanno comprate magari vanno a risalire che ne so una giornata può fare 4% su quella parte lì cominciano a liquidare le posizioni però intanto l'impulso da sfruttare l'abbiamo avuto durante la giornata e questo il ragionamento se non è qualcosa chiaro ditemi però penso che sia abbastanza chiaro altro motivo che è più che altro attuale ecco perché ci troviamo in un momento storico con un immenso liquidità stessa cosa di prima nel senso che sempre il classico fondo pensione chiaramente il fondo tedesco era abituato a investire sui bund era abituato a titoli di stato tedesco non sto sparando a caso cosa fa? purtroppo questi titoli non hanno più rendimento di conseguenza nel momento in cui c'è la possibilità di comprare delle azioni a dei prezzi buoni si sfonda subito inutili basta vedere le S&P 500 quello che ha fatto negli ultimi anni ma anche lo stesso DAX che è i massimi storici è così purtroppo cercarsi di rendimento è un gioco molto pericoloso però è così è così non c'è niente a fare tutto sommato non si vede all'orizzonte un problema grosso che possa causare una crisi finanziaria se non i soliti dazi le solite due stupidaggini che dicono però non c'è effettivamente qualcosa di grosso quantomeno l'azzardo ormai l'azzardo è un livello che probabilmente un po' tutti non vedono più problemi che probabilmente ci sono però per ora finché la barca va dobbiamo lasciarla andare e la liquidità non accetta non accetta a diminuire anzi con gli ultimi con gli ultimi interventi che ha fatto la 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 Federal Reserve dicembre più o meno inizio dicembre è tornata pesantemente a finanziare le banche overnight che avevano raggiunto avevano dei grossi problemi di prestiti overnight ecco quindi lì è stato un nuovo qui chiamiamolo in maniera diversa da parte della Fed che è andata a sommarsi al costante qui europeo al costante qui giapponese poi la grande massa monetaria che c'è in Cina che probabilmente nessuno bene conosce quanto è e come è sviluppata comunque sostanzialmente questo c'è una grandissima mole di liquidità quantità di liquidità che va a lavorare sulle azioni perché è l'unico bene che per ora porta a rendimento altra motivazione perché abbiamo orari di negoziazioni più chiari con senso logico stessa di prima orari di negoziazioni più chiari cioè quelli visti in precedenza che poi andiamo a rivedere e senso logico perché non è che io ho deciso che la partenza del ciclo perché ho visto che i giorni prima parte alle 9 allora come regola prendo che alle 9 c'è la partenza ciclica no calma la partenza ciclica c'è alle 9 perché? perché abbiamo il flusso di liquidità che entra alle 9 è ben diverso che dire c'è stato il minimo e di conseguenza andrà a andrà a succedere nella stessa maniera perché perché il mercato fa sempre le stesse cose perché storicamente è sempre uguale le solite cose che si sentono nel mercato storico ecco no alle 9 c'è la partenza del ciclo perché c'è gente che ci mette i soldi penso che sia abbastanza chiaro perché non è la partenza del ciclo perché il mercato si ripete è storico bla 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 no qua abbiamo la partenza perché entrano soldi grossi che comprano perché ci sono dei prezzi convenienti il mercato vero mercato punto vero mercato ora operativi di intraday ora vedremo come trasportare un operativo quello detto precedentemente su DAX e dopo vediamo perché DAX per ora una volta che abbiamo segnato i nostri livelli dell'analisi fatta in precedenza spiegato nel webinar precedente cioè i soldi statici i soldi dove ha lavorato tanto il prezzo che ne so trendline quelle solte cose ecco visto in precedenza che se non avete il link ve li ve li ve li ve li rigiro una volta segnati sono le facciamo proprio la giornata sono 8.45 vedo il mercato qui è lì è lì che galleggia sta scendendo pian piano aspettiamo prima delle 9 non facciamo operazioni consiglio se uno vuole operare poi va bene però prima delle 9 non facciamo operazioni alle 9 apriamo gli occhi ok lasciamo vediamo il mercato cosa fa aspettiamo che il mercato si muova e raggiunga una zona di minimo importante nel senso che alle 9 lo short a meno che non lo abbia fatto uno stiamo sempre parlando di ipotesi mercato apri più 6 che ne so arriviamo su una zona che è il doppio massimo annuale dicono stupidaggini non è da shortare però lì si può provare però alle 9 non shortiamo il mercato piccolo consiglio alle 9 00 non shortiamo il mercato poi chiaramente se è alto se ha fatto un movimento la nota può essere però un mercato normale alle 9 non shortiamo per il motivo detto prima soprattutto per la liquidità in questo caso perché tante di conseguenza non vanno a vendere alle 9 quindi al 9 aspettiamo che il mercato si muova e raggiunga una zona di minimo importante segnata in precedenza nel momento in cui i minimi cominciano ad essere più decrescenti entriamo al mercato con le tecniche viste in precedenza questo deve accadere per avere il massimo della statistica a nostro favore non puoi perdere le 10,30 perché? perché se quel prezzo rimane stazionario alle 10,30 comunque continua a scendere scendere oltre a 10,30 cavolo le possibilità che comunque una giornata non sia delle migliori cioè ecco sappiamo poi sono giornate che il minimo grosso lo fa alle 11 a mezzogiorno qualsiasi cosa se non è il mercato non è prevenibile al 100% quantomeno può succedere qualsiasi cosa però se il mercato mi si ferma dalle 9 alle 10,30 su un livello interessante e provo a reagire io il 13 lo piazzo soprattutto in questi orari perché per le motivazioni dette in precedenza chiaramente la prima mezz'ora è quella più interessante 10,30 siamo proprio al limite però penso che rendo l'idea ecco l'importante è che a quest'ora non andiamo a shortare il mercato su una rotola di minima questo lo sconsiglio vivamente no cerchiamo operazioni long in questo orario che se è una long di scalping che ne so che ne sono un DAX di 20 punti oppure cercare dell'impulso proprio giro nel grosso andare a prendere 100 punti 150 punti non lo so questo dipende dal mercato però cerchiamo operazioni long in questi orari ok la slide questa metodologia mercato che scende 10,30 di minimo sostanzialmente questo è un proprio forte l'erranza mercato riparte e ci proviamo a codare questo sostanzialmente ok ora ritornando sul DAX nella slide degli orari individuiamo gli orari migliori per il short intraday troviamo 12,30 14 ok come orario ideale per shortare il mercato sempre meglio considerato il long sempre quello il mercato gli indici azionari vanno longati non c'è niente da fare per la motivazione del tempo in precedenza però nel momento in cui abbiamo una buona espansione del mercato sul livello short e una buona fase di accumulazione alla rotola del livello possiamo entrare short ok questo è abbastanza semplice sono livelli un po' più interessanti nel senso che comunque l'impulso realzista perché motivazione l'impulso realzista del ragionamento fatto in precedenza solitamente va a annullarsi in questo orario perché comunque se il mercato vuole veramente scendere sì ok entrano long i fondi di investimento vuol dire fanno un rialzo però comunque se la pressione è veramente ribassista non c'è niente da fare cioè il mercato scende però comunque questi orari vanno a esaurire la fase in quella iniziale di short di short ecco di perdonatemi di long quindi è un orario un po' più interessante provate a farci caso io dico queste cose poi dovete guardare un attimo in piattaforma fatevi un attimino fatevi un attimino l'idea che vedrete che è interessante un orario diciamo che se quello di prima se l'orario di long gli do 100 ok qua gli do un 70 ecco è meno preciso perché tutto sommato lo short è un po' più rognoso nel senso che è lungo poi si sviluppa ci vuole tanto svilupparsi il movimento è velocissimo di conseguenza è più difficile da fare lo short sul mercato scelario a parer mi in conseguenza tendiamo sempre ad allungarlo il mercato azionario piuttosto in questi in questi giorni che in questi ormai purtroppo settimane tendono a salire solo gli indici l'operatività è difficile nel senso che bisogna stare tranquilli a fare con poco e con stop i benefici perché effettivamente longare questi livelli è tosta è tosta però sempre meglio longare il mercato che shortarlo perché con lo short si fa male poca gente fa short fatti bene e anche io lo dico tranquillamente preferisco molto i più long i soldi diciamo li faccio con long e non con lo short perché lo short è proprio cattivo nell'operatività perché è lungo da lavorare da svilupparsi ecco poi nel momento in cui parte è velocissimo però prima che parte ci vuole tanto tempo successivamente arrivano le 15.30 adesso cosa fare se prima vi ho parlato di DAX c'è stato un motivo perché perché la parte mattutina sostanzialmente è poco partecipata negli Stati Uniti giusto e al 9 di mattina il rialzo viene dettato dall'apertura dei mercati azionari europei di conseguenza perché andare sulle S&P 500? no lavoriamo il DAX la mattina ok per cercare di fare questo alle 15.30 la situazione si ribalta nel senso che l'apertura non c'è più in Europa chiaramente perché sono già aperte da ore l'apertura c'è negli USA e la stessa medesimo ragionamento lo faranno in fondo di investimento di USA ok poi altra cosa ancora forse più importante è che nel momento in cui c'è aperto l'azionario statunitense l'Europa è solamente una pecorella che segue i capi che sono i padroni che sono gli statunitensi che sono loro che comandano il mercato come vediamo come chiunque può vedere ecco se va a vedere un po' i movimenti di conseguenza stessa cosa arrivano il 15.30 dove avviene l'apertura dell'azionario USA medesimo ragionamento che accade alle 9 ma in questo caso ci spostiamo sugli indici americani perché sono i loro i padroni del mercato come detto cioè coloro che vanno a influenzare maggiormente i movimenti arrivo del mercato sul livello importante però in questo caso dell'S&P 500 lasciamo stare il DAX dove è il DAX lasciamolo lì se uno fa in 3D chiaramente il mercato arriva sul livello importante di conseguenza c'è probabilità che il mercato che il livello importante dell'S&P viene a razione dell'S&P non che arriva al DAX sul livello importante mentre l'S&P continua a scendere e il DAX risalga no arrivo del mercato sul livello importante si va ad analizzare il movimento del breve e nel momento in cui il mercato dimostra forza possiamo entrare long sul mercato stessa cosa del DAX però vuol differenza appunto di orari e di mercati penso che sia abbastanza chiaro anche questo non c'è molto a dire questo succede costantemente tutti i giorni praticamente tutti i santi giorni avviene questa cosa perché è veramente una cosa che ha senso logico non avviene perché c'è il ciclo che è di che ne so il ciclo in 3D può essere 9 ore non so sparo a caso sicuramente sbagliato no beh allora facciamo un attimo un calcolo velocissimo mettiamo il caso che sia 16 meno 9 7 ore il ciclo in 3D è 7 ore di conseguenza ogni 7 ore deve esserci il minimo no ok il ciclo in 3D parte perché c'è la relazione di tutta la liquidità appunto questa è la cosa più importante da capire che i cicli lunghi hanno talmente tante variabili come dicevamo prima che fanno diventare matto un ciclo che ha senso di esistere è questo e vi ho detto perché ha senso che esista e perché funziona costantemente e perché tornando a sempre alla nostra statistica alla nostra probabilità nel momento in cui andiamo a fare un'operazione long questo tipo di operatività questo tipo di ciclo aumenta la statistica a nostro favore nel caso in cui andiamo long di azionari e o di indici ed è questo il solito punto dove andiamo dove vado a parare io per scegliere gli argomenti da trattare perché noi dobbiamo costantemente inserire argomenti e tool e strumenti per aumentare il nostro trading aumentare la nostra sicurezza avere la possibilità con più sicurezza di aumentare e perdere le nostre sites e diminuire il rischio ecco questo fa tutto questo con questo abbiamo portato la nostra probabilità in maniera maggiore verso lì ok dopo andiamo a vedere un attimo in piattaforma che non è una stupidaggine ma vedete che c'è un po' di idee c'è buona probabilità ecco sono buone cose allora indicazioni importanti ecco i cicli intraday come tutte le altre cose viste da noi più alle altre volte non devono essere usati da soli se non vi è un minimo massimo importante c'è molta meno possibilità che il ciclo inverta nel senso che se sono le 9 e il mercato è stazionario o nel senso non è lì non è meno meno 0,2 meno 0,3 così sì per l'amor di Dio c'è molta possibilità che vada a partire il ciclo per le motivazioni di liquidità soprattutto in questi casi una volta era diverso nel senso che il mercato fermo era più volatile comunque c'era provava a fare il minimo adesso purtroppo con poca volatilità con la liquidità che c'è c'è probabilità che vada a partire però non andiamo a lavorarlo nel senso che sì posso andare a lavorarlo sempre perché non c'è una scienza però questa cosa del ciclo è meno potente usiamo questo termine anche se non è bellissimo in caso che il mercato stazionario è lì da magari un giorno come è stato un po' oggi ecco il DAX utilizzare sempre accopiata gli strumenti visti nei webinar precedenti sicuramente da sola non è che perché se noi abbiamo un supporto bello importante a 13.400 per dire se sono 420 non ha senso che vado long solo perché sono le 9 aspettare che il mercato dia conferma nel senso che come prima se io devo andare long non è che il mercato sta crollando sono le 9.00 allora dentro long ok no vediamo che il mercato si ferma si stabilizza comincia a fare qualche massimo crescente è sul livello importante ci proviamo e la cosa biblica nel senso che quello che la cosa primare le due cose primare che dovete cioè c'è da portare a casa questa sera prima cosa gli orari ciclici ecco seconda che i cicli non esistono perché il mercato si muove in maniera ciclica sempre nello stesso modo ma per motivazioni prettamente di liquidità apertura cash azionari questo punto e basta perché ho visto tanti tanti ultra trader guru che vanno a modificare le loro analisi in base a quale ciclo è più 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 corretto o più o come o vanno a modificare la visione del mercato in base a che tipo di ciclo hanno hanno si appreste si appreste in maniera migliore a dargli ragione ecco sostanzialmente quello o vanno a modificare la lunghezza del ciclo in base al movimento del mercato cioè non ha senso se un ciclo esiste finito ok ma se no se il ciclo si modifica in base a quello che fa il mercato ma che cavolo lo guarda fare cioè se può fermarsi le cose dette prima sostanzialmente non c'è non trovo statisticamente io ho perso tanto di tempo a cercare di guardare i cicli vi dico la verità ho perso tanto tempo io non trovo qualcosa che possa essere interessante da utilizzare solo io tutto ho tirato fuori questa cosa di ciclo intraday che effettivamente vi posso assicurare che funziona andiamo un attimo in piattaforma allora allora ancorato guardiamo un po' DAX ok che grafico ho messo 30 minuti 30 minuti vediamo un po' partiamo dall'inizio allora guardate qua iniziamo con 15 e 30 16 guardate qua minimo ok scusate mercato da 390 a 430 e oggi è stata una giornata del cavolo nel senso una giornata stupida 1 e 15 vabbè sono vari strani questo qui questo massimo quando è stato 13 e 30 14 è stata la giornata di oggi non è che abbiamo programmato il mercato per fare questo 13 e 34 ora ci ho fatto questo massimo ok andiamo un po' indietro andiamo allora 1 e 15 no ma cosa stai vedendo allora 20 0 1 scusate un secondo eh allora ok non mi sono perso scusate 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 allora in questo caso il 14 ieri invece il minimo l'ha fatto invece questo minimo l'ha fatto alle 14 13 14 14 13 esatto mentre no che 14 13 scusate sì dalle 14 mentre guardate questo minimo questo minimo è stato fatto alle 10 dalle 10 alle 10 e mezza questo minimo questo è un bel minimo è un signor minimo che ha generato un movimento dalle 13.360 al top proprio 13.487 quindi 13.370 faccio qualcosa ah no scusate la stanchezza delle 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 sette ricominciamo 13.360 di minimo il massimo 13.487 cioè 120 punti vediamo un attimo il massimo che ora l'ha fatto 11.30 11.30 sì ai 12.30 ha iniziato a scendere in mercato questo qui vediamo torniamo indietro all'ora ai 2 di notte guardate qua minimo del DAX rimaniamo sul DAX tanto sostanzialmente i mercati si muovono più o meno uguali minimo del DAX è stato fatto alle 14 prima delle 14.30 quindi stesso orario dopo apertura americana vediamo un appunto questo massimo questo massimo quando è stato fatto alle 14.30 questo massimo comunque non lo guarderei perché comunque era un po' il mercato stava scendendo vediamo questo minimo importante quando si è fatto oh no questo qua l'ho fatto di notte beh in senso come vi ho detto non funziona sempre se vogliamo guardare questo minimo un poco interessante 15 però vediamo questi giorni vediamo un attimo facciamo una cosa veloce torniamo a una giornata meno importante allora dove siamo primo ottobre primo ottobre qua classico sell off grandissimo vediamo un attimo il massimo che abbiamo fatto 10 vediamo un attimino qui 16.30 al minimo minimo interessante in questo caso perché abbiamo 11.826 ha riportato il mercato fino a 972 quindi sono dei bei soldi vediamo un attimino qui questo qua questo qua 12 è stato fatto uno importante le 14 un po' una giornata ecco qua questo minimo come vedete non è bibbia non è che è sempre uguale però guardate questo minimo 10 ecco non è che è proprio questo qui 10.30 questo minimo chiaramente questo minimo di notte ascoltate non si può fare tutto 21 vediamo questo qui ora questo ha avuto le 11 ha iniziato questo movimento interessante vedete vediamo questo qui 13 vediamo questo minimo qui 10 questo qua è stato fatto alle 10 questo tutto questo ragione questa lavorazione qua è ripetitivo non è sempre così perché come dico sempre non può essere fatto guardate questo minimo però interessante alle 16 sto qua quindi spero che abbiate capito che la cosa effettivamente funziona ha senso e vi ho spiegato anche la motivazione vediamo il simpice 500 casuale proprio giornata casuale mettere di notte vediamo un minimo un po' interessante dai un minimo interessante 16 e 30 guardate qua 16 e 30 al minimo non è che giornate proprio casuali vediamo un minimo interesse non scende mai questa cosa 17 fuori tolleranza diciamo però comunque 17 ha fatto un movimento di ripartenza 14 di massimo ok torniamo qua avete visto io dico che funziona provate a farci caso voi se funziona come cosa e e tanto ci sentiamo presto via mail se volete mi iscrivete guardami insieme un po' di giornate di grafici che vedrete che funziona come cosa concludo qui grazie mille di avermi seguito solto solto 30 nel senso domani 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 pomeriggio vediamo un pochino base di impegni caricherò la registrazione vi manderò la mail e ci aggiorniamo poi durante le giornate di trading tanto il numero ce l'avete e la mail pure grazie mille di avermi seguito ed è stato veramente un piacere anche questa volta penso che questo è un argomento un po' particolare nel senso che non è che non viene proprio affrontato costantemente però secondo me può essere interessante come cosa perché comunque veramente c'è del valore in questo ciclo intraday e cerchiamo di sfruttarlo grazie mille buona serata a tutti